Mi chiamo Michele, vengo dall'Italia, studio Scienze Politiche. La vita qui a Sofia è una vita di comunità, una vita di comunità piena di sfide. Di sfide perché in residenza veniamo da posti diversi del mondo, veniamo dal Giappone, dall'Italia, dall'Uruguay, dalla Francia e da Cuba. È una vita piena di sfide. Sfide perché veniamo appunto da riferimenti culturali diversi, abbiamo abitudini diverse, mangiamo cibi diversi e quindi ogni giorno cerchiamo di creare nuovi compromessi, che non sono mai compromessi a ribasso. E quindi ogni giorno viviamo questa sfida. Viviamo una sfida per creare un'armonia, ma quando riusciamo a creare questa armonia riusciamo a creare momenti davvero intensi. Ma non bisogna pensare che parliamo ogni giorno di filosofia, di politica, di economia, ma riusciamo a vivere momenti di vera condivisione parlando anche della nostra storia, della nostra vita, dei nostri desideri e dei nostri sogni.